Per me è l'abitudine. 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 che si diceva, in modo vengono vengono si è stato in spaz temperature di 4-5 gradi la macchina è stata iniziata per il modo Inoltre funziona, inoltre funziona, inoltre funziona, inoltre funziona la macchina. Per questo chilometro a 2, se stanno inoltre 5-10 minuti, la macchina la macchina è diventata come un bambino. E per trogare il metodo, il effetto di scopo, come un'è in una macchina. Quindi in questi tempi sembrano non restituire, ma passare in questi tempi. Ora vediamo il effetto tumano. Minus 55 gradi. ma in regione di Gittrin c'è molta florezza e il sole sembra un grande ognone e guardiamo come una ognone Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. And we have one on the other side. That is wild. And striker with a sun dog, it's on either side, but it's not. And that is so freaking wild. And you know, like the whole thing... Yeah, but the whole thing is, look at all the stuff they're dropping, right? All these tracks, and then we get this. Like, what the hell is going on? That's really weird. Okay. That's just over the top of that building. But over to the right, a few degrees, we have the sun coming up. I just don't understand these. I mean, look at that. You can see, right there. Does anybody like the sun coming up right there to you? And then you look right over here. And the sun's coming up over here too. Let's see if we can't get both these pictures in the same thing. Sun here, sun there. You go to the inside place. Sun here, small here everything is here. Grazie.